Le positive relazioni bilaterali tra l'Austria e la Santa Sede, l'importanza della promozione della libertà religiosa e dei diritti umani e l'impegno nel dialogo interreligioso e interculturale. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Federale di Austria, Fischer. Secondo quanto ha riferito la sala stampa della Santa Sede, sono anche state esaminate alcune questioni in ambito internazionale, in particolare la situazione in Medio Oriente. Grazie a tutti.